Inquisitor's Heartbeat catapulta il giocatore in pieno 1300, periodo di massima ferocia dell'Inquisizione. Accusato di eresia, poiché in possesso di un testo proibito, il protagonista di gioco è stato imprigionato nelle segrete di un castello. Dovrà fuggire dalla sua cella e recuperare il prezioso libro che gli è stato confiscato prima che questo venga portato al monastero oltre la foresta e infine distrutto. Nelle oltre 6 ore di gameplay, il giocatore dovrà districarsi in 35 labirintici livelli divisi in 7 diverse ambientazioni, evitando di farsi scoprire da guardie e bestie feroci e affidandosi unicamente al proprio udito. È presente inoltre una modalità di gioco endless, cioè infinita, dove i labirinti vengono generati uno dopo l'altro, sempre con mappe differenti. Sviluppato per PC e Mac e prossimamente per EOS, Inquisitor's Heartbeat è frutto degli sforzi congiunti di Rising Pixel e Ornithocopter, del talentuoso Luca Rungi per la musica e di Ticom Blue in veste di publisher. Inquisitor's Heartbeat